Bene cari lettori, eccoci qua e siamo qui a raccontarvi qualcosa di quello che troverete sul giornale di domani, non tutto perché il giornale ovviamente dovete andare in edicola a comprarlo. Domani grande giornata perché? Perché svegliamo finalmente il vincitore del concorso che ha tenuto ferma la città nelle ultime settimane, ovvero vota il tuo bar, sono arrivati tantissimi tagliandi, è stata una lotta serratissima, il vincitore lo trovate sul giornale di domani ovviamente. A proposito di concorsi e di iniziative, qui nella nostra redazione vi aspettiamo con questo bussolotto nel quale potete inserire il vostro campione preferito tra Daniele Cavaliero Palacanestro Varese, Alice De Gradi, Unendo Yama, Busto Arsizio e Carmine Marrazzo del Varese per vincere una cena con il vostro campione preferito in occasione di San Valentino. Passiamo adesso alle notizie, alcune delle notizie del giornale, oltre a darvi le ultime indiscrezioni e stiamo parlando di Varese sulla tensione politica che sta sempre più entrando nel vivo per quanto riguarda la candidatura del centrodestra, il nome che sfiderà Galimberti del PD per le prossime amministrative, facciamo il punto sulle ricerche del giovane Paolo Rindi, il ragazzo 19enne disperso ormai da qualche giorno in Valgrande e viste le previsioni per il prossimo weekend che danno freddo e acqua e in Valgrande questo significa freddo e neve, diciamo che le prossime ore saranno davvero decisive per questo ragazzo, per cui vi terremo aggiornati sul giornale di domani, ma se dovesse cambiare la situazione e tutti speriamo in modo positivo, il nostro sito internet vi aggiornerà in tempo reale su quello che sta succedendo. Spostiamoci in provincia, torniamo a Luino e torniamo all'incendio che è divampato nella notte di mercoledì, perché torniamo a parlare della grande solidarietà che la città di Luino ha messo in campo dopo quello che è successo e vi raccontiamo tante storie di volontari, di persone che hanno messo a disposizione una stanza, un letto, un piatto di pasta asciutta, qualcosa per i sfortunati che hanno visto bruciare la loro casa e sono rimasti senza nulla. Sempre in provincia purtroppo c'è una brutta notizia da dare, è morto, è morto il ragazzo, l'attore originario di Tradate si chiamava Raphael Schumacher e aveva 27 anni e stiamo parlando dell'attore che la scorsa settimana durante una rappresentazione in un teatro di Pisa è rimasto impiccato durante una scena e purtroppo le sue condizioni erano disperate e il ragazzo non ce l'ha fatta. Passiamo allo sport, passiamo allo sport che è meglio, anche perché oggi in redazione è venuto a trovarci un grande del Varese, Marco Giovio e è stato con noi un'oretta, abbiamo parlato di tutto e di più, c'è stata anche una telefonata sorpresa di un personaggio che non ve lo diciamo, lo scopriete domani ovviamente, per cui è una pagina dedicata al grande numero 10 del Varese, si parlerà ovviamente di pallacanestro, l'avvicinamento alla sfida di Sassari per la pallacanestro Varese, con l'intervista al Presidente di Sassari Sardara che parlerà anche di Meo Sacchetti e poi sul giorno di domani visto che si parla di sport, anche se questa pagina la troverete in Varese, ci saranno tutte le foto della serata di ieri dove il ristorante Dannetta di Capolago, il Rosario Rasizza, il Cavalier Rasizza di Open Job Metis ha radunato tutte le personalità dello sport varesino per una serata in cui sono uscite cose interessanti e idee da annaffiare per un futuro sempre più florido, per quella che è davvero sempre di più la terra dello sport, per cui vi aspettiamo domani in edicola e sul sito.